Un ferragosto diverso dall'anno passato, il secondo con regole e restrizioni anticontagio e che rispetto all'estate del 2020 non ha registrato particolari problematiche o criticità dal punto di vista dell'ordine pubblico. Nella fase organizzativa dei controlli per una delle giornate più attese dell'estate, il prefetto della provincia di Pesare Urbino, Tommaso Ricciardi, aveva annunciato un ampliamento dei passaggi delle forze dell'ordine nei principali luoghi di aggregazione e ritrovo, in primis quindi lungo le spiagge e nei locali connessi a queste, sottolineando il rischio di sanzioni a provvedimenti, come la chiusura immediata dell'attività, per le realtà non rispettose delle norme anti-covid. Per garantire un maggior controllo degli accessi nelle aree comuni, diversi sono stati i gestori di spiagge e chioschi che si sono organizzati attivando prenotazioni obbligatorie con numeri limitati per i tavoli dei locali e potenziando le unità di vigilanza privata. Soddisfatto dell'andamento generale della giornata, l'assessore condelega la sicurezza del comune di Pesaro Riccardo Pozzi, il quale ha evidenziato come il ferragosto sia passato senza particolari criticità grazie al servizio di controllo capillare svolto dalla polizia locale, in coordinamento con tutte le altre forze di polizia, e alla collaborazione tra i proprietari degli stabilimenti balneari e i gestori delle attività. Soltanto in un caso, in uno stabilimento nella spiaggia di Sottomonte, sono stati rilevati eccessi ed assembramenti tali da rendere necessario l'intervento degli agenti della municipale. Per l'attività è stata predisposta una sanzione amministrativa di 400 euro e la chiusura provvisoria a partire da ieri e per le prossime tre giornate. Chiusura che dopo le ulteriori verifiche della prefettura potrebbe prolungarsi per un massimo di 30 giorni e associarsi ad altre sanzioni amministrative.